In diesem video geht es um die Koordinierende Konyunzionen. Ma che cosa sono le congiunzioni o le proposizioni coordinate? Sono le congiunzioni del gruppo ADUSO. ADUSO è un acronimo e sta per ABBA, DEN, UNS, SONDAN e ODER, che sono appunto MA, POICHE, E, BENSÌ, OPPURE O. Partiamo dalla prima congiunzione, la congiunzione ABBA, che significa MA. Assumono quindi la posizione zero, quindi in realtà non c'è nessun tipo di inversione, non contano. Vediamo un esempio. Frase principale numero uno, NICHT ALLE TRANKEN WEIN, ABBA. Frase principale numero due, SIE FEIHRTEN TROTZEN AUSGELASSEN. Quindi non tutti hanno bevuto del vino, ma hanno festeggiato, malgrado tutto, in maniera divertita, in maniera sfrenata. Abbiamo un'altra congiunzione, la congiunzione DEN, POICHE, che fa parte anche del gruppo ADUSO, quindi anche questa con posizione zero. Frase principale numero uno, LEIDER MUST EICH MICH PALT VERAPSCHIDEN. Purtroppo ho dovuto congiudarmi presto, denn meine Freundin war krank, poiché la mia amica, o la mia ragazza, era malata. Vediamo ora la congiunzione UNT, I. Anche in questo caso abbiamo, Ecco, in questo caso, quando abbiamo la congiunzione UNT e il soggetto è uguale, si può anche tralasciare. Vediamo ora la congiunzione SONDAN, MA BIN SI. Prima frase, Quindi mio amico non è venuto perciò con l'automobile, o in automobile, bensì o ma in taxi. Per poter avere SONDAN, tra l'altro, dovremmo avere sempre, nella prima parte della frase, una negazione. Quindi mio amico non è venuto con l'auto, ma con un taxi. Anche il soggetto e il verbo della seconda frase possono essere tralasciati perché sono gli stessi. Vediamo ora l'ultima congiunzione del gruppo ad uso, la congiunzione UNT, prima frase, Quindi abbiamo potuto mangiare qualcosa di freddo dal buffet, oppure potevamo appunto prendere qualcosa in giardino dal grill. Anche in questo caso abbiamo l'elemento che si ripete, WEIR CONTENT, che può essere tralasciato. Vediamo ora i casi in cui abbiamo la congiunzione gruppo ad uso con un avverbio o con un altro complemento. Ecco, in questo caso dovremmo fare l'inversione. Per esempio, se io comincio con la frase, si hat die Prüfung bestanden, che è la prima principale, poi UNT e inseriamo la seconda principale. Ma non cominciamo con il soggetto, cominciamo con un altro elemento, in questo caso con l'avverbio MORGEN domani. In questo caso dovremmo fare l'inversione tra soggetto e predicato. UNT MORGEN bekommst du das Soins, e domani quindi riceve la pagella. La stessa cosa può succedere anche con un complemento. Per esempio si può dire, si hat die Prüfung bestanden und in den nächsten Tagen bekommst du das Soins. Avremmo potremmo dire, UNT MORGEN, UNT am Samstag, eccetera. Quindi, se non abbiamo il soggetto, ma abbiamo un altro complemento, obbligatorio è l'inversione. Quindi, riassumiamo quello che abbiamo detto finora. Quando colleghiamo le frasi con una delle congiunzioni del gruppo ad uso, bisogna fare attenzione perché stiamo collegando due frasi principali, quindi Hauptsatz plus Hauptsatz. Di conseguenza, con le congiunzioni aber, denn, und, oder e sondern, avremo quello che in tedesco si chiama posizion null. Quindi, la congiunzione è come se non ci fosse, è come se non ci fosse niente davanti. In questo caso metteremo quindi il soggetto e il verbo. Se invece mettiamo un avverbio, abbiamo visto che dobbiamo fare l'inversione. Adesso, abbiamo detto alcune particolità precedentemente per quanto riguarda il soggetto che si può tralasciare. Allora, nel caso in cui il soggetto è lo stesso, normalmente viene tralasciato. Anzi, è stilisticamente meglio lasciarlo via. Quindi, bei gleichem subjekt, wird das Subjekt nicht wiederholt. Attenzione alla punteggiatura. Ist das Subjekt verschieden, se il soggetto è diverso, steht in der Regel ein comma vor dem folgenden Hauptsatz. Se il soggetto è diverso, invece, normalmente si mette una virgola prima della frase principale che segue, quindi prima di und, o di aber, eccetera. Vediamo adesso alcuni esempi per quanto riguarda la punteggiatura. Quindi, se abbiamo, per esempio, la congiunzione uns e collego le frasi, avremo quindi ich zeige dir jetzt das Haus uns, ich erkläre dir dabei ein paar Dinge. Quindi, adesso ti mostro la casa e ti spiego alcune cose. Ecco, in questo caso è meglio togliere questo ich. È meglio toglierlo perché, appunto, è uguale. Nel caso in cui abbiamo, invece, due frasi con il soggetto diverso, come in questo caso, ich zeige dir jetzt das Haus uns du kannst gleich auch den Garten sehen, in questo caso, invece, bisogna ripeterlo perché è obbligatorio in tedesco nel caso in cui non c'è il soggetto. Quindi, dobbiamo per forza mettere du, non si può mettere kannst senza soggetto. In realtà, vedete che la frase è diversa rispetto a quella precedente. In questo caso, abbiamo due soggetti diversi. La stessa cosa capita anche con la congiunzione aber. Quindi, se abbiamo la frase quindi ha parlato con me, ma era abbastanza freddo. In questo caso, se il soggetto è diverso quindi ha parlato nuovamente con me quindi il suo comportamento si era in qualche modo raffreddato quindi non era più come prima, era diverso da prima. Ecco, vediamo adesso il caso in cui abbiamo un avverbio all'inizio della frase come per esempio jetzt anche in questo caso avremo l'inversione jetzt sage ich dir das Haus perché richiede l'inversione dell'avverbio e poi uns richiederà la posizione zero quindi la posizione nulla come abbiamo visto precedentemente und ich erkläre dir dabei ein paar Dinge Vediamo ora cosa succede quando le congiunzioni ad uso collegano anche altre subordinate Verde nebensätze mit uns aber sonnen den oder verbunden steht auch die folgende verbgruppe am Ende quindi se ne colleghiamo le subordinate le congiunzioni quindi con uns aber sonnen den oder in questo caso avremo anche la struttura con il verbo alla fine dell'altra subordinata a volte è sottointesa la subordinata e non viene infatti ripetuta questo capita spesso con weil ma anche con das vediamo un esempio partiamo da das prima frase ich wusste dass er recht hatte e poi si sottointende anche un das ich ihm wohl vertrauen konnte che potevo fidarmi di lui questo è un esempio in cui in questo caso il das non viene messo ma è sottointeso quindi non è posizione nulla qui non è uns ich konnte ma è comunque ancora la frase subordinata di conseguenza il verbo deve andare alla fine se invece si riprende quella principale si consiglia di mettere un punto e ricominciare una frase in questo caso non si sbaglia vediamo invece adesso l'esempio con weil che è esattamente allo stesso modo in questo caso però abbiamo lo stesso verbo quindi er hatte mir nichts gesagt weil er mich nicht beundruhigen wollte und weil er mir auch nicht wehtun wollte quindi in questo caso abbiamo due volte lo stesso verbo allora in questo caso cosa si fa? non lo si ripete due volte lo si ripete soltanto la seconda volta e anche la congiunzione e il soggetto in questo caso vengono tralasciati quindi la frase corretta diventerà er hatte mir nichts gesagt weil er mich nicht beundruhigen und mir auch nicht wehtun wollte vediamo ora le congiunzioni correlative che sono in coppia quindi sono formate sempre da due congiunzioni queste congiunzioni sono entweder oder o o sowohl als auch sia sia weder noch ne ne nicht nur sondern auch non solo non soltanto ma anche e per finire zwar aber certamente ma partiamo dalla prima entweder oder o o abbiamo la struttura della prima frase entweder du gehst jetzt ins Bett oder du hilfst mir noch beim aufräumen adesso o vai a letto o mi aiuti ancora a riordinare abbiamo quindi due frasi principali con la posizione zero qui non abbiamo nessun tipo di inversione nicht nur sondern auch non soltanto ma anche nicht nur die älteren Kinder hatten Spaß sondern auch die Jüngeren freuten sich qui non soltanto i bambini più grandi si sono divertiti ma anche quelli più piccolini abbiamo poi sowohl als auch sia sia sowohl in der Schweiz als auch im Ausland kennt man diesen Pianisten poi abbiamo weder noch nene weder die Kinder noch die Eltern wurden genau informiert né i bambini né i genitori sono stati informati esattamente poi abbiamo zwar aber certamente ma er ist zwar noch jung aber er hat noch viele erfahrungen è certamente ancora giovane ma ha già molte esperienze siamo giunti al riassunto abbiamo detto che in tedesco le frasi possono essere collegati dalle congiunzioni del gruppo ad uso ad uso è un acronimo e sta per aber ma denn poiché uns e sondern ma bensì oder oppure queste congiunzioni assumono la posizione zero significa quindi che non hanno l'inversione se tuttavia dopo la congiunzione gruppo ad uso avrò un avverbio o un complemento dovrò fare l'inversione posso anche avere dopo la congiunzione gruppo ad uso una congiunzione come weil come das in questo caso la struttura della frase sarà subordinante ricordo anche che a volte la congiunzione das e weil non viene scritta perché è sottointesa la struttura sarà quindi quella della subordinata abbiamo poi visto le congiunzioni che si presentano in copie quindi anche in questo caso non avremo l'inversione ma avremo la posizione zero nicht nur sondern auch non soltanto ma sowohl als auch sia sia wieder noch ne ne zwar aber certamente ma